Erano circa le 12 quando a causa dell'asfalto bagnato un automobilista ha perso il controllo dell'auto che si è capovolta su se stessa, in via Fossalato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma il conducente, un uomo di mezza età residente a San Michele al Tagliamento, era già riuscito a mettersi in salvo. Poco dopo sono giunti anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso. San Donà, una 26enne del posto, strecciava ad alta velocità con i fari spenti all'alba, ma una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo l'ha vista e non essendosi fermata all'alta hanno iniziato l'inseguimento. Poco dopo i due militari sono riusciti a superarla, costringendola a fermarsi, ma lei non contenta ha speronato la gazzella. Sia la conducente con alcuni precedenti penali che i carabinieri si sono recati al pronto soccorso. La 26enne è stata poi denunciata per resistenza pubblico ufficiale e per una serie di infrazioni al codice della strada. Mestre, nuovo stop del tram verso le 9.40 in zona Forte Marghera. Il blocco è durato una decina di minuti e ha coinvolto un paio di corse dirette a Venezia a causa di un intervento urgente alla linea aerea di contatto che aveva ceduto proprio a causa del maltempo. Disagi anche sulla linea ferroviaria Bassano-Venezia. Il vento ha trasportato sui binari una rete metallica che ha bloccato la marcia di un treno che per la rimozione dell'ostacolo ha maturato un ritardo di 45 minuti.